Conservare e diffondere la memoria storica. Questo è l'obiettivo degli oltre 30 eventi organizzati dal Polo del Novecento in occasione della giornata della memoria in collaborazione con il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte e la città di Torino. Abbiamo voluto sperimentare diversi tipi di linguaggio. Ci sono mostre, ci sono spettacoli teatrali, concerti. L'obiettivo è proprio arrivare a tutti, a ciascuno con il linguaggio che tocca meglio le proprie corde e quindi volendo sperimentare anche arrivare alle giovani generazioni. Sabato 27 gennaio è andata in scena la performance Memoria Ora della compagnia Pem in presa sociale con la regia di Gabriele Vacis. Un percorso di costruzione drammaturgica fatta di parole e canto, una babele di lingue e suoni per far riflettere lo spettatore sul passato, sul presente e sul futuro come singolo e come specie umana. Sempre nell'ambito degli eventi che il Polo del Novecento dedica al giorno della memoria, è visitabile fino al 24 febbraio la mostra Touch, un progetto di Piero Cavagna e Giulio Malfer, che si interroga sulle modalità del ricordo. Una serie di fogli riportano dei testi stampati a rilievo con inchiostro bianco, mentre altri fogli riportano dei quadrati neri stampati su carta fotosensibile, che si attiva solo grazie al calore delle mani, svelando i volti di alcuni ragazzi e ragazze vittime della Shoah. Giornata della memoria è importantissima per la nostra città, per il nostro paese e devo ringraziare il grandissimo impegno del Consiglio regionale, della città di Torino e di tutte le istituzioni che partecipano a un programma ricco e importante, che è già iniziato nei giorni passati e proseguirà fino ai primi giorni di febbraio.